bego una domanda interessantissima perché è da due anni che non sono una pergine e quindi mi chiedo perché e mi rispondo da solo e poi dico ma l'affan brodo grazie sono felicissimo di essere qua pergine di gepine vedo casa mia no no mi vedo oltre la montagna vedo casa mia la finestra proprio il vice che ha perso probabilmente qualcosa di importante e passa una riccia